Alcuni esempi su cosa dobbiamo confrontarci, perché sennò sembra di cosa dobbiamo parlare. Per esempio, facciamo un portale e non discutiamo adesso che non finiamo più. Questo ci deve trovarsi un weekend e parlarne assieme o fare dei gruppi a posta dedicati. Lo facciamo aperto, può entrare chiunque, il portale o facciamo solo su invito, in modo che chi entri abbia un minimo di responsabilità e non bruci il cliente, per esempio. Domanda, mettiamo degli standard minimi o va bene tutto? Standard minimi intendo dire che certi tipi di appartamenti impresentabili non li accettiamo, perché non possiamo permetterci, come fa Airbnb, di bruciare i clienti sui brutti appartamenti che tanto poi rimangono in Airbnb. Come acquisire i clienti? Si è un po' accennato il problema, che è grosso. Accettiamo tutti o guardiamo che siano in regola? Qui è una bella domanda. Danilo nell'intervista ha avuto, ho detto tutti, perché la legge comunque non è chiare, quindi non è un problema risolvibile. Altri mi hanno detto no, sono in regola perché così la concorrenza è leale. Va discusso da qua, c'è già farci un weekend all'argomento, per capirci. Se dovessimo farlo nei weekend, insomma. Gestione claim, ma hanno rotto, cos'è che rompe uno di solito? La macchina del caffè? No, l'ha rotta a te, l'ha già rotta, eccetera, eccetera. Come gestiamo? Bitoken aveva quell'idea, io ho quell'idea di fare questa app, di gestirlo via app, va discusso. E così ce ne sono tante di cose a discutere. E sono convinto che se ci mettiamo giù seriamente, veniamo fuori con delle idee fantastiche. Non conosciamo queste problematiche, sono lo strumento per risolvere le caratteristiche. Sappiamo che succede, cosa ti manda, cosa la rompa? Sappiamo quello che succede, come lo risolviamo? Come lo risolviamo? Sì, sì. Conclusione? Basta. Allora, io ho messo nel sito trips.adromo.com, barra incontri, c'è un bottone dove potete fare una votazione e dire dopo, adesso, se vi interessa collaborare dopo questa presentazione. Vi consiglio dopo, così facciamo le domande, insomma, o anche da casa. Un po' per capire se quanti di voi vanno a casa dicendo, ma questo qua è deficiente oppure è interessante. E me lo dite in maniera anonima, così so che non... Bene. Grazie. Grazie. Grazie.